Il mattino del 6 novembre siamo arrivati nella piana di El Carita e ci siamo fermati la notte per riposare. Ci hanno distribuito la galletta e la scatoletta e mezzo litro d'acqua. Quella notte ci fu l'ultima scaramuccia. Alla fine avevamo perso ancora il mio comandante di Plutone, il telente Leggi e quattro parecadutisti. Il camminiano Cristofori, i suoi parecadutisti, gli fecero togliere la giacca con i gradi da ufficiale per paura di rappresaglie. Sennò che il camminiano Cristofori ebbe pochi attimi, un modo d'orgoglio, andò verso il soldato che ci teneva sotto tiro con il mitra, gli sputò letteralmente e disse la frase «Kill me!».